Il potromo di Pinovo, mercoledì 7 gennaio, prima riunione dell'annata 2015, una riunione che sembra partire un po' con il reno a mano, visti i campi di partenti non molto numerosi e con già qualche ritiro. Ritiro anche nella prova di riqualifica alle corse che stiamo documentando con le immagini riprese davanti a uno dei monitor dell'ipotromo di Pinovo, ma ricommentati in diretta da un sottoscritto Brankovic. Non è in pista il numero 2 Preziosus, che era stato chiamato forse in partenza, Fabio Faina aveva evidenziato qualche problema di ferratura, poi alla fine ha ritirato il cavallo, per cui in campo Madec, Settimio Fabio Mollo, Ryan Air Flying, Elvis Bessichelio, Cradicelle Andrea De Muru, Pietra del Nord, Fabio Chico, Mirror Grip a Marcos Morgon, la quale è richiesto per il superamento della riqualifica, 1.175 o migliore al chilometro. Si ritrae dall'ala Andrea De Muru con Ocraticelle, all'avanguardia Madec, Madec in vantaggio avanti a Pietra del Nord, poi terzo all'esterno Mirror Grip, così lungo l'arco della piegata, il lancio in 14 nitti con Madec all'avanguardia, in seconda Pietra del Nord, terzo in fuori Mirror Grip, poi Ryan Air Flying in coda Ocraticelle, si esce dalla piegata con Madec in vantaggio quarto iniziale in 29.4 alla media di 13.5 per consigli esterni in seconda posizione Mirror Grip che presumibilmente scavalcherà Madec, così è dopo 600 metri passati in 45.4, Mirror Grip precede Madec, in terza posizione rimane Pietra del Nord, avanti a Ryan Air Flying in coda Ocraticelle, qui l'andiana lungo l'arco della seconda e penultima piegata, il paletto di metà corsa lo si passa in 1.01.8, 32.4 il secondo parziale, all'avanguardia Mirror Grip, in seconda posizione Madec, Mirror Grip precede Madec, in terza sempre Pietra del Nord, superamento del giro in 1.17 nitti, all'avanguardia Mirror Grip in seconda Madec, in terza Pietra del Nord, poi Ryan Air Flying spostato all'arco in coda rimane Ocraticelle, la progressione di Ryan Air Flying, intanto i 1.002 si passano in 1.31.5, 29.7 il terzo quarto, Mirror Grip, Madec, Ryan Air Flying, nell'ordine all'ingresso in addirittura, ingresso in retta, i 1.004 si chiudono in 1.46.4, Mirror Grip allunga avanti a Madec, poi Pietra del Nord, fasi finali con Mirror Grip avanti a Madec, Pietra del Nord, Ryan Air Flying e Ocraticelle, 29.1 la chiusa, 2.006 il tempo totale, 15.4 la media per Mirror Grip, che va dunque da apripista per la riqualifica di tutti i concorrenti.